Alla fine un punto d'intesa è stato trovato. Dopo una lunga discussione, a volte piuttosto animata, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto agli abitanti di Melia di insediare un comitato per approfondire meglio e in totale condivisione una problematica che ha assunto livelli emergenziali quasi insostenibili. L'arrivo quindi dei 98 minori stranieri non accompagnati all'ex struttura del villaggio del Pino resta per ora sospeso e finché non si troverà un accordo nessun migrante sarà trasferito nella piccola frazione scillese. Alla presenza dei sindaci di Scilla e San Roberto e del questore Raffaele Grassi e dopo numerosi interventi degli abitanti di Melia e dei residenti del villaggio del Pino che non hanno mancato di rappresentare le tante difficoltà nel concretizzare un'operazione giudicata poco rispettosa di una comunità che da sempre crede e pratica solidarietà ed accoglienza, il prefetto di Reggio Calabria ha invitato tutti alla comprensione e alla condivisione. Nasce un metodo di condivisione come è giusto che sia e come ci viene rappresentato dalle autorità nazionali che ci inducono, ma è giusto che sia così, a che ogni progetto di accoglienza nelle comunità piccole o grandi che siano abbiano sempre questo rapporto colloquiale con la comunità stessa e la mia presenza qui oggi è anche il frutto di una composizione tra le tante esigenze che sono state prospettate e che noi porteremo a sintesi perché solo in questo modo noi cercheremo di essere attenti interlocutori degli extracomunitari, delle comunità. Oggi l'assemblea è stata una bella assemblea perché ognuno ha manifestato paure, esigenze, difficoltà, però hanno anche ascoltato con attenzione c'è che noi abbiamo proposto in termini di sicurezza, in termini di un progetto di accoglienza che prevede la inclusione, che prevede l'attività di corsi di italiano e quant'altro. Io credo che noi certamente siamo chiamati a dare risposte, devono essere anche risposte rapide, tempestive, ma risposte soprattutto che devono avere una forza non del convincimento ma della condivisione perché quando si è sullo stesso piano la comunità deve respirare ciò che lo Stato dà e dice in queste occasioni. e credo che questa sera da quello che è emerso, al di là di qualche asperità, è emerso che cosa soprattutto? È emerso che c'è la volontà di non alzare innanzitutto nessuna barricata come è stato più volte detto e voi siete stati testimoni, ma di comporre, declinare in maniera appropriata l'esecuzione di questo progetto di accoglienza secondo le esigenze che la comunità ha manifestato. Allora io ho fatto, ho disposto che delle persone si incontrino ulteriormente domani per comprendere fino in fondo queste modalità e pian piano cercare di togliere ogni asperità che comunque è stata segnalata.